Siamo arrivati a giovedì, oggi Team WOD, niente riscaldamento, subito diretti dentro il WOD, ho anche la cartelletta per leggerlo perché così mi ricorderò bene e non farò casino nel dirvelo. Team da due, dovremo fare 600 metri run all together, quindi tutti e due i componenti dovranno percorrere 600 metri di corsa, a rientro 100 jack di sit-up, li suddividete come volete, 50, 50, 20, 30, come vi pare. Finiti i jack di sit-up, si esce di nuovo tutti insieme, 600 metri ancora una volta di corsa, si rientra per fare 100 back squat, di nuovo 600 metri fuori e si rientra per fare 100 chest to bar. Per quanto riguarda intermediate e beginner, sfortunatamente la cosa è un po' meno pesante, trovate tutto sulla grafica qui di fianco. Ciao, a domani!